Quattro persone di una famiglia di Soria rischiano di essere senza una casa da mercoledì 22 febbraio, data in cui è stato notificato l'avviso di sfratto. Si tratta della famiglia Monetti, una famiglia che nei mesi scorsi era salita alla ribalta della cronaca per un motivo molto diverso. Quello della raccolta fondi online lanciata in favore del figlio Alessandro di 25 anni, che a seguito di un grave incidente in motorino quando era 17enne, è costretto da 8 anni alla sedia a rotelle. La sua grande passione per il campo e il desiderio di aiutare l'azienda agricola di famiglia lo aveva portato ad esternare il suo sogno, quello di poter guidare un trattore adatto con ausili funzionali alle sue disabilità. E da qui la campagna crowdfunding per potersi permettere l'acquisto del mezzo dal costo di 156 mila euro. Una situazione delicata ma che ora si trova a dover guardare in faccia la cruda attualità. L'impresa di autotrasporti fallita del padre Giuseppe, il conseguente debito contratto con la banca e le ingenti spese di riabilitazione per il figlio, hanno innescato una procedura tutt'altro che piacevole. L'avvocato Pratelli, nonché custode giudiziario del procedimento di esecuzione immobiliare, ha comunicato lo sgombero dell'abitazione entro pochi giorni. Quindi pignoramento, vendita all'asta e un nuovo proprietario. Oltre a Giuseppe e Alessandro, la famiglia Monetti è formata dal fratello minore Leonardo e da mamma Rosanna. Madre che martedì mattina si sottoporrà anche a un delicato intervento chirurgico dal quale necessiterebbe di una convalescenza di almeno due mesi. Nonostante le mille difficoltà, i Monetti vogliono rispettare però ciò che è stato deciso dal giudice, ma quello che chiedono è un po' più di tempo per poter cercare una nuova sistemazione. La ricerca di un appartamento è iniziata e sono diverse le richieste presentate. La domanda è inoltrata per una casa popolare o un'abitazione a Villa Ceccolini. Nel frattempo sono state allertate le autorità cittadine e le associazioni che hanno preso a cuore la loro realtà, potendo sentire il sostegno di chi desidera un futuro più radioso per la famiglia Monetti.